La nostra intenzione è di fare una birra con le mele della Valdinon, con la Renetta Canada della Valdinon, che fra il resto produce un nostro amico e la metteremo in cottura e anche in dry hopping nel fermentatore. È una birra già testata che è un po' particolare, ha un bel profumo di mela, proprio il Canada che ha un suo profumo particolare e in più anche una buona acidità, è una birra che va bevuta anche a tre mesi, è molto buona, di più non saprei cosa dire, il suo colorino chiaro, anche per caratterizzarci, visto che siamo qui in Valdinon, insomma, ho pensato di fare questa birra qui dietro.